segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te sandro allora so corrado rubarti solo un minuto solo veramente un secondo perché questo è un programma nel quale spesso noi parliamo di diritti di donne di libertà e in questo momento ci sono delle donne che soffrono in iran e io vorrei fare un piccolo gesto simbolico so che è piccolo però ha un significato perché è una battaglia di libertà e io credo che sia giusto farlo anche perché abbiamo una donna che è prigioniera a teheran e mi auguro che il presidente mario draghi faccia di tutto per farla tornare qui alessia piperno quindi scusate un gesto molto giusto e anzi lo raccogliamo quella ciocca è una ciocca che è come dire è un 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 omaggio un incoraggiamento un gesto di vicinanza per tutte le donne che in iran lottano per liberarsi dall'obbligo del velo imposto della repubblica islamica iraniana quindi